ma anche un tuo amico polpobà mi racconti un po davvero quanto è forte perché poi la sua giocata è che fa passare il Manchester United forte forti tutti sanno che è forte non è un segreto non bisogna stare qua a dire quanto è forte tutti sanno quanto è forte tutto dipende quanto sei contento e quanto stai bene in una squadra poi il resto si risolve se non sei contento e non sta bene è più difficile giocare poi quanto è forte non è forte grazie grazie